E' una questione di qualità Fidere di tagliarsi i capelli E eliminare il caffè o le sigarette di bar La finita con qualcuno qualcosa E' una formalità Una formalità E' una questione di qualità Io sto bene, io sto male Io non so dove stare Io sto bene, io sto male Io non so cosa fare Non studio, non lavoro, non guardo la tv Non vado al cinema e non faccio far Non studio, non lavoro, non guardo la tv Non vado al cinema e non faccio far E' una questione di qualità Una questione di qualità Una questione di qualità O una formalità Non ricordo più bene Una formalità Come decidere di tagliarsi i capelli E eliminare il caffè o le sigarette di bar Rapidità con qualcuno qualcosa È una formalità È una formalità Una formalità Una questione di qualità Io sto bene, io sto male 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 Non vado al cinema e non faccio spa, lo studio non lavoro e non guardo la tv, non vado al cinema e non faccio spa, lo studio non lavoro e non guardo la tv, non vado al cinema e non faccio spa. L'intelligenza mediatrice, il punto di mediazione tra il micro e macrocosmo, cioè quelli della forza spirituale, i piani inferiori o della forma. Tiferet si rivela contemplando il bello, lo splendore, l'armonia estetica. Corrisponde all'esperienza della compassione, che è amore misurato, capace di premiare e di lodare, ma anche di rimproverare se necessario. Nel corpo umano si trova al centro il cuore, come pianeta è il sole e per chi conosce anche i chakra, corrisponde al quarto chakra. Tiferet, cioè la visione dell'armonia delle cose, che è un fattore indispensabile al nostro lavoro come costruttori. Vedremo anche oggi, in queste due ore, che trascorreremo assieme qui, dalle 19.30, ormai 19.38 precisamente, fino alle 21.30, per poi passare la conduzione della trasmissione ad Andrea. Bene, dicevo qui oggi, siamo il 14 gennaio 2019, 14 giorni passati ormai in questo nuovo 2019. Io, visto che c'è stata una serie, ci siamo visti, sentiti l'ultima volta nel 2018, quindi non posso che farvi tutti gli auguri di un buon anno, di un buon proseguimento, che sia un anno, magari chissà, di forte azione, perché credo che sia fondamentale l'azione per poter costruire altre cose, costruire altre cose nella nostra vita e comprendere altre cose. Con riferimento proprio all'idea di costruire qualcosa di noi stressi, che può essere anche la visione di andare all'interno di noi stessi, questa sera, prima di passare all'ospite, sarà un ospite telefonico, e l'abbiamo già sentito l'anno scorso a cadenze mensili. Non vi voglio svelare niente, probabilmente qualcuno che ha già l'amicizia con me su Facebook, Laura Ferro, conosce l'argomento di questa sera. Però andremo con l'ospite solamente alle ore 20. Adesso, appunto, vi volevo proporre la lettura, nonostante la mia voce di questo 2019, prima puntata 2019, non sia così, come dire, piacevole, penso all'uscita dei microfoni, però ecco, la lettura di un libro che a me è piaciuto molto, particolarmente interessante, perché è un libro che parla di introspezione, soprattutto dà anche delle tecniche per cercare di capire come riuscire a sentirsi ed andare a analizzare la realtà, la nostra realtà, quindi non guardare la realtà di fuori, ma cercare di comprendere la realtà, quella che è la più interessante, a mio avviso, e sembrerebbe appunto, concordo con anche gli autori del testo, che sono Krishnananda e Amanna, e il titolo è A tu per tu con la paura. Una frase di questo libro è Bisogna ascoltare il corpo e fidarsi di esso e risvegliare la nostra conoscenza interiore. Io ricordo i contatti per intervenire qui in diretta, questo è il numero, il numero degli sms è il 334-710-2672, e ripeto il numero degli sms per intervenire qui in diretta, Tiferet è il 334-710-2672. Vedo che è arrivato un messaggio, che bello, risentirci in questo nuovo anno con Anna Maria da Treviso e con figlia Marica. Allora, ciao Laure, auguri a te famiglia per un anno di gioia, salute e bei momenti, un saluto a chi ti ascolta, con piacere soprattutto se è solo o da malato, un bacetto all'angelo Gigi, un abbraccio ad Anna delle poesie, e firmato appunto Anna Maria da Treviso con la figlia Marica. Grazie, grazie davvero per questo ricordo. Certo, un grande saluto in questo nuovo anno anche a Gigi, che è sempre nel nostro cuore e vive, ricordiamo, con il suo spirito da gladiatore. Poi ci saranno anche i numeri per intervenire qui in diretta, direttamente negli studi Radio Gamma 5, uno sarà prenotato appunto dall'ospite, l'altro volendo sarà il 049-700-838. Bene, allora andiamo a, inizierò appunto la lettura di questo libro, che è di Thomas Trobe, perché appunto Krishnananda è un soprannome, con la moglie Amana, che è Glitter Demand Trobe, e appunto, ripeto il titolo, tu per tu con la paura. Parto da un capitolo abbastanza, come dire, per me esplicativo, che mi ha risuonato, tale per cui il desiderio era quello appunto di affrontarlo con voi in questi circa 15-15 minuti. Il titolo è Lasciar andare nell'amore e nell'essere soli. La prima prefazione è di Osho, Quindi, adesso leggerò quello che è Osho e quello che appunto lui parla sul Sei sempre in movimento. La realtà è qui e tu sei sempre in movimento. Perciò non avviene alcun incontro. Fino a che quell'incontro non avverrà, tu non sarai mai felice. La felicità è quando tu sei in sintonia con la realtà. La felicità è un'armonia tra te e il reale. L'infelicità è una disarmonia tra te e il reale. Quindi, se sei infelice, ricorda, devi esserti allontanato dalla realtà. Devi seguire la realtà. Devi entrare in profondo accordo con la realtà, in sintonia con essa. Tu devi divenire una nota nella grande orchestra che la realtà è. Non lottando, ma arrendendoti, sottomettendoti alla realtà, pronto a dissolverti in essa. Questo è l'amore. Essere pronti a dissolversi nella realtà. Essere pronti a fondersi, amalgamarsi. Essere pronti a divenire una cosa sola con la realtà. Perderai qualcosa, i tuoi sogni, il tuo ego. Perderai quella separazione. Ti dissolverai come una goccia d'acqua, ma non hai nulla di cui preoccuparti. Diverrai oceano. Non sarai più quello che sei stato finora. Il tuo ego, i tuoi steccati spariranno. Non sarai un'isola, ma parte del continente. Non perdi nulla perdendo te stesso. Perdi ogni cosa resistendo. Alla fine del nostro viaggio, fuori dalla paura, abbracciando una vita di amore e di meditazione, arriveremo alla sfida più grande di tutte. Lasciare andare. Riconosco che tutte le mie piccole battaglie, i miei sforzi per controllare le situazioni, gli altri, sono semplicemente la mia lotta contro l'esistenza. Questi sono i modi con cui io resisto e che mi mostrano quando lavoro interiore io debbo ancora fare. Per cominciare a lasciare andare le nostre strategie di controllo, dobbiamo aver fiducia. Fidarci che l'esistenza provvederà a darci ciò di cui abbiamo bisogno. Per me questa è la mia meditazione costante. Significa aprirmi all'insicurezza, alla paura di non ottenere ciò che desidero e a tutte le paure che ne conseguono. Se lascio andare il mio tentativo di controllare o manipolare l'esterno, devo accettare le mie paure e sentirle. Sto scegliendo consapevolmente di entrarci dentro. Ogni frustrazione, insoddisfazione, disagio o minaccia genera un'immediata reazione nel tentativo di controllare, manipolare o cambiare in qualche modo l'esterno per far sì che la minaccia svanisca. E ogni volta che ciò accade stiamo nascondendo paura o dolore. Queste piccole situazioni si presentano di continuo nella nostra vita. Non sono banali. Lasciare andare significa spostare l'attenzione all'interno invece di controllare l'esterno. Ascoltiamo cosa è stato provocato al nostro interno. Le nostre strategie ci allontanano da noi stessi. Ho scoperto che quando scelgo di andare all'interno paura e dolore non sono più come mi aspettavo fossero. Infatti paura e dolore sopraggiungono quando perdo me stesso, non quando non ottengo qualcosa che voglio all'esterno. Accade perché perdo il mio centro. Lentamente riesco a comprendere che il mio nutrimento non arriva dalla soddisfazione dei miei bisogni e desideri dell'esterno, ma dall'andare dentro, dal ritornare ogni volta a me stesso, dalla pura gioia della scoperta di sé e dal recuperare il mio centro. Pochi di noi sono stati supportati ad andare dentro perché non siamo cresciuti in quell'atmosfera di meditazione. La compulsione ad andare fuori è persuasiva perché è automatica. Dobbiamo imparare di nuovo, abituarci ad accogliere questi momenti di disagio e andare dentro con loro. Quando si presenta una minaccia o una delusione, noi reagiamo. La reazione è per la nostra sopravvivenza, la risposta istintiva alla minaccia. Chiamiamo questo atteggiamento reattivo la posizione del fantino perché la nostra energia è in alto e diretta in avanti verso l'obiettivo di cambiare l'esterno. In sintesi, quando ci siamo messi comodi con noi stessi, dandoci spazio per sentire, osservare e accettare, diciamo che siamo tornati a sederci sulla sella. In questa posizione siamo seduti in noi stessi, in un certo senso sulla nostra sedia interiore e spegniamo consapevolmente l'istintivo impulso a reagire. Sedersi sulla sedia, sulla sella, è un lasciar andare e un andare dentro. Quando diamo a noi stessi questo tipo di spazio, la nostra intelligenza e il nostro intuito hanno il tempo di operare. Diamo spazio al nostro sapere interiore per rispondere alle provocazioni di qualunque modo ritenga appropriato. Posso osservare da vicino questo meccanismo nelle mie relazioni, nei momenti in cui mi sento frainteso o sospetto di essere manipolato o attaccato, oppure quando mi sento abbandonato è automatico lasciarmi lanciarmi in accuse e liti o ritirarmi nella mia familiare rassegnazione. Posso effettivamente sentire la spinta a difendermi, ad allontanare e a vendicarmi. Senza consapevolezza di quei momenti mi sposterei automaticamente nella posizione del fantino, trascinato dal vecchio istinto di sopravvivenza. Posso percepire l'energia concentrata nel mio plesso solare, l'energia della lotta, della difesa, colpisci o arrenditi. Il mio bambino interiore sta dicendo vedi è accaduto di nuovo, nessuno mi capisce, sono completamente solo e se non proteggo me stesso verrò sopraffatto. È un'energia di offesa, rabbia e rassegnazione, un vecchio film basato sui traumi dell'infanzia che ho visto e rivisto molte volte. Non porta nulla alla mia crescita restare nel film del mio condizionamento, questo è un momento in cui posso correre un rischio e tentare qualcosa di nuovo. Il rischio è quello di interrompere consapevolmente la reazione del plesso solare e far scendere l'energia nella pancia. Ciò significa lasciare andare il desiderio di cambiare l'esterno, andare dentro e sentire. Dalla sella nella mia pancia ho più spazio per riconoscere che la mia ferita da privazione e abbandono è stata provocata e ho più spazio per continuare a prestare attenzione alla sensazione. Invece di reagire all'altra persona dico qualcosa tipo mi sento come se stessimo per farci prendere da un litigio, non voglio litigare, in effetti mi sento ferito da quanto hai detto, perché, oppure, ho la sensazione di dovermi proteggere ora perché ho paura che, in quei momenti, spostiamo effettivamente l'energia dal plesso solare e la portiamo giù nella pancia. Quando ci esprimiamo da quello spazio l'altra persona smette di sentirsi attaccata. Facendo quella mossa ci assumiamo la responsabilità di interrompere la lite. Per litigare bisogna sempre essere almeno in due. Se uno si ferma, si sposta giù nella pancia ed è disposta ad essere vulnerabile, lo scontro cessa. Quando scegliamo di non reagire invitiamo la vulnerabilità. infatti, la nostra reazione ha il preciso scopo di non farci sentire impotenti e vulnerabili. Nella relazione, sia con amanti, sia con amici, desideriamo sempre che sia l'altra persona essere vulnerabile per prima. Ci piace restare protetti e al sicuro, aspettando che l'altro faccia il primo passo. Ferisce il nostro orgoglio mostrarci vulnerabili per primi. Perferiamo piuttosto avere ragioni e dominare, per dimostrare all'altra persona che dovrebbe sentirsi dispiaciuta e guardare ai propri punti deboli. Lasciare andare questo bisogno di aver ragione e di controllare profondamente spaventoso. Tuttavia, non possiamo avere amore o meditazione fino a che restiamo aggrappati al desiderio di avere ragione, di controllare e di restare al sicuro. C'è un'altra comprensione che ci aiuta nel processo di spostamento dalla lotta alla vulnerabilità, dal controllo a lasciarla andare e andare dentro. Quando la nostra ferita viene stuzzicata, noi possiamo individuare una sequenza di eventi che accadono dentro di noi. Dallo stimolo alla reazione. Sotto la reazione c'è la nostra ferita o paura. La provocazione attiva un'aspettativa e l'aspettativa copre la ferita di una deprivazione di vecchia data. Invece di essere coscienti della ferita o di condividerla, noi reagiamo giudicando, accusando o escludendo. Un piccolo esempio. Recentemente ho scritto una mail a un mio amico condividendo alcune circostanze intime e dolorose che stavano accadendo nella mia vita. Per una ragione o l'altra lui non mi ha risposto per qualche settimana. Durante quel periodo mi sono sentito tagliato fuori e allontanato da lui. Dentro di me ho cominciato anche a giudicarlo per non essere stato sensibile e per non essere stato all'altezza della mia concezione di amicizia. Il suo non rispondere è stata la provocazione. La mia aspettativa era che quando apro il mio cuore devo avere una risposta immediata. Dal momento che questa aspettativa non è stata soddisfatta io ho reagito. La reazione stava nascondendo una vecchia ferita di non essere ascoltato e così ho cominciato a pensare che non si sarebbe più stato nessuno in grado di ascoltarmi. Ma quanto spesso ci assumiamo l'impegno di risalire la ferita e di condividerla? Al contrario reagiamo e ci genera ancora più dolore e fraintendimento. Come dicevo prima le nostre aspettative e reazioni sono solo il risultato della nostra privazione. Quel piccolo bambino interiore ferito nutre aspettative perché sente di avere un grande bisogno di amore. Se riusciamo a identificare le aspettative e a risalire alla ferita da privazione che stanno nascondendo torniamo seduti sulla sedia. Non dobbiamo sbarazzarci dell'aspettativa non dobbiamo sbarazzarci di nulla abbiamo solo bisogno di portare consapevolezza a ciò che sta accadendo dentro di noi. Non importa quale sia il fatto scatenante che si tratti di un amico di un amante o dell'ambiente circostanze viene messa in moto la stessa sequenza. Ripercorrere la sequenza risalendo dalla provocazione all'aspettativa alla ferita da privazione è uno strumento di consapevolezza che possiamo praticare e condividere con chi amiamo e con i nostri amici più intimi in ogni momento. Lasciare andare ci porta di fronte alla nostra vulnerabilità e quando siamo vulnerabili ci imbattiamo nelle nostre paure. È inutile riconoscere che queste paure appartengono a una parte di noi giovane e depressa che porta ancora nel corpo memoria di trauma. Percepire questa paura è il primo passo sulla via della resa all'esistenza. Quando abbandoniamo le nostre strategie di sopravvivenza la paura viene a galla perché tutte quelle strategie derivano innanzitutto da paura e da mancanza di fiducia. Di conseguenza lasciare andare non ha alcun valore fino a quando non accettiamo le nostre paure come parte integrante della nostra ricerca della verità. Prima di essere più intimo con le mie paure le respingevo considerandole retrogradi infantili e autoindulgenti. Quando lasciavo andare ci arrivavo più per rassegnazione che per autentica resa. Se mi sentivo impotente pretendevo che non mi importasse. Ma tutto questo non mi avvicinava a ciò che stava realmente succedendo dentro di me. Un autentico lasciare andare si verifica quando pur tenendoci immensamente abbandoniamo il tentativo di cambiare l'esterno. Guardando indietro posso rendermi conto che ho fatto fronte alla maggior parte dei miei più significativi rifiuti del passato minimizzando quanto profondamente mi avessero ferito e spaventato. Quando non abbracciamo le nostre paure noi ci separiamo dalla nostra vulnerabilità che viene così rinnegata. Da questo spazio rinnegato essa continua a esercitare una potente influenza ma in modo subdolo. Creiamo una frattura interna tra il selvaggio l'avventuroso esploratore interiore e la nostra parte vulnerabile quella che porta con sé le nostre paure insicurezze ricettività e tenerezza. Una persona che ho visto di recente verrà presente la doppia polarità che si verifica quando rinneghiamo le nostre paure. Era in apprensione perché stava per lasciare l'India e ritornare in Germania per stare con il suo ragazzo ma dubitava di voler rimanere ancora con lui. È noioso mi disse non mi sento più sessualmente attratta da lui lui non vuole correre rischi e fare cose nuove non medita e non ha voglia di lavorare su se stesso. Le chiese di immaginare che ci fossero due parti di lei alla sua sinistra la parte vulnerabile alla sua destra quella selvaggia dalla parte destra lei continuava a lamentarsi di quanto poco interessante fosse il suo ragazzo e di quanto poco si sentisse sessualmente attratta da lui ma quando le chiese di spostarsi dall'altra parte ogni cosa cambiò cominciò immediatamente a piangere ed espresse quanto avesse bisogno di lui quanto si sentisse al sicuro e acudita e come il solo pensiero di stare senza di lui fosse assolutamente terrificante esplorando più a fondo poteva vedere che dentro di sé c'era una scissione anche tra il suo essere una ricercatrice e la sua vulnerabilità nessuna delle due era particolarmente fiduciosa o sensibile nei confronti dell'altra la sua relazione rifletteva questa separazione alla fine quando le chiese di sedersi tra queste due posizioni pote più facilmente rendersi conto di questa divisione ma fu importante per lei cominciare a integrare queste due parti di sé divenendo più sensibile ai bisogni e alle peculiarità di ognuna con una divisione così radicale dentro di sé non avrebbe trovato nessuno che potesse soddisfare i bisogni di entrambe da una parte la bambina ferita bisognosa di molta protezione e sicurezza e dall'altra la ricercatrice con la brama di avventura ed ignoto abbracciare la nostra parte impaurita è un passo cruciale del lavoro su noi stessi che richiede grande attenzione pazienza e fiducia è molto facile scappare nel nostro bambino reattivo un navigato politico e stratega molte situazioni sono soprattutto le nostre relazioni intime possono rispecchiare la grandezza della frattura che abbiamo creato dentro di noi tra la nostra parte che tiene testa ed evita le paure e l'altra che invece le porta con sé dobbiamo considerare la nostra vita e ogni suo aspetto anche le situazioni più banali come un'opportunità per giocare al limite delle nostre paure ogni situazione che affrontiamo e creiamo nella nostra vita ci offre l'opportunità di giocare al limite della paura quando non accettiamo queste sfide le combattiamo diventiamo delle vittime accusiamo gli altri o gli eventi esterni di arreccarci disagio o delusione e non accettiamo E torno in diretta, Radio Gamma 5 Tiferet, con in qualche secondi, dopo la prima virtualità, io volevo anche salutare un cesto collato di magnifici auguri per questo nuovo anno 2019, colmo di salute nel profondo del tuo cuore, anima non avere mai paura del tuo percorso, quando in te c'è armonia, positività, pazienza, educazione e dolcezza, l'affrontare la strada di vita. Auguri cara Laura, con stima e amicizia, a Mariella Danonare, buon anno, grazie, grazie di questo bellissimo saluto Mariella. E ci sentiamo quindi. Tiferet, Radio Gamma 5, 14 gennaio 2019, sono le 20.06, allora qui in diretta sono arrivate degli altri sms, e allora ciao Adada Treviso cara, mi scrive che bella lettura stai facendo, finalmente stasera posso scuscare la tua tese missione. Sì effettivamente è vero, perché spesso mi scrivi in mezzo, no? Tra le otto e mezza e le nove, quando arrivi non so da dove, mi scrivi sempre. E grazie alla lettura, ho appunto letto una parte che è A tu per tu con la paura di Shinnananda Amana. E poi ancora ricevo un messaggio di complimenti, grazie, grazie Giancarlo Damarostica e anche a lei auguri di buon anno, grazie davvero. Bene, allora in diretta, dovrei adesso mettiamo in diretta, ecco sento già che ho aperto il microfono, ed abbiamo Giuseppe Buglino, questa sera la trasmissione è tutta un'intervista giusta per lui, l'abbiamo sentito nel corso del 2018, ogni mese ci dava delle indicazioni su quelle che erano il seognizzo di Acali, in base appunto al mese, questa volta invece oggi abbiamo una trasmissione proprio tutta incentrata sull'astrologia umanistica, questo è il titolo, il ritmo della nostra vita. Buonasera Giuseppe, benvenuto. Buonasera Laura, buonasera a tutti coloro che ci ascoltano, grazie. Grazie a te, allora permettimi di fare un piccolo incipit e poi anche l'introduzione a quella che è l'argomento di questa sera. Carlo Gustav Jung, che tu citi spesso e che piace molto anche a me, scriveva Noi siamo nati a una certa ora, in un certo luogo e come il vino in una certa vendemmia, portiamo la qualità di quell'anno e della stagione dentro di noi, questo, né più né meno, è ciò di cui l'astrologia parla. Giuseppe Buglino è nato nel settembre del 78, sin dall'olescenza ha amato l'astrologia, antichissima disciplina e potentissimo mezzo di introspezione mediante il quale abbiamo la possibilità di entrare in contatto con la profondità della nostra anima. Addentrandomi via via, più meticolosamente nel campo dell'osservazione, scrive Giuseppe ho imparato piano piano a riscoprire l'animo umano e con esso l'essenza della natura più profonda e sublime e l'attenzione a temi così nascosti, oltre che delicati, mi ha insegnato a interpretare tramite l'astrologia l'universo meraviglioso racchiuso dentro ognuno di noi, per ciascuno differente, per forma e sostanza e perciò unico. Quindi speciale, dopo 22 anni di studi penso di avere ancora diverse cose da imparare, non mi reputo mai arrivato l'astrologia affiancata ad un lungo percorso interiore mi ha permesso di portare luce negli angoli bui della mia anima e di accettare quelli altrui abbracciando il mio prossimo con la totale assenza di giudizio. Ringrazio questa straordinaria disciplina chiamata astrologia perché grazie ad essa ho capito di essere refrattario al male, anche se so che purtroppo esiste, ma sono pure convinto che nulla è in grado di battere l'amore. Bellissimo, grazie per questa introduzione Giuseppe Bullino che già dà l'idea della tua profondità a chi non ti avesse ascoltato l'anno precedente. Tra l'altro ricordo anche che ci sono una serie di trasmissioni, podcast, che si possono ascoltare dal sito www.lastoriavariscritta.it. Ma introduciamo l'argomento di questa sera e allora andiamo subito a quello che è il succo perché appunto il titolo di questa sera è Astrologia Umanistica e il ritmo della nostra vita. Molto spesso ci troviamo di fronte a esperienze della vita che ci esortano a portare importanti trasformazioni, a mettere in atto cambiamenti degni di nota che magari anche se significativi, però per il nostro percorso evolutivo poi ci spaventano molto, ci impauriscono. Ci sentiamo magari sotto pressioni, messi alla prova e talvolta anche disorientati. E questo accade perché si vuole chiaramente a tutti i costi mantenere lo status quo, la situazione presente, anche se magari delle volte è dolorosa e non è anche poi conveniente magari per noi e risulta comunque essere anche decisamente per assurdo più rassicurante tutto ciò che ha a che fare con rinnovamento e trasformazioni. E quindi creiamo delle forti resistenti, contrastando così tutto ciò che ha a che fare con un bisogno di crescita che giunge dalla nostra anima e che necessita di essere ascoltato. A questo punto tu scrivi che i transiti planetari ritmano il tempo della nostra vita e sono da considerarsi come un'importante occasione di crescita e di evoluzione, Giuseppe. Ma che cosa si intende transiti planetari e come questi riguardano la nostra crescita ed evoluzione? Allora Laura, innanzitutto grazie per questa introduzione che effettivamente è un po' l'inizio di quello che andremo a trattare in questi momenti che passeremo insieme e vorrei iniziare tornando a nominare Carl Gustav Jung, famoso psicoanalista, psichiatra e antropologo svizzero che fu uno dei primi a riconoscere all'astrologia il suo grande potenziale. Ecco, egli arrivò a considerarla uno strumento molto valido proprio per esplorare quelli che sono gli abissi della psichiomana e in diversi scritti tra l'altro manifestò profondo rispetto per questa disciplina, cito le sue parole, debbo dire che sei spesso riscontrato che i dati astrologici chiarivano certi punti che diversamente non sarei stato capace di comprendere. Ecco, Jung quindi diciamo che poté constatare tramite quelle che furono le sue analisi che vi erano in molti casi ricchi di analogie tra quelli che sono moltiplanetari ed eventi psicologici e in un'intervista che risale all'ormai lontano 1954 dichiarò ci si può aspettare con ragionevole certezza che una particolare ben definita situazione psicologica sarà accompagnata da un'analoga configurazione astrologica. Ecco, l'attenta osservazione quindi da parte di Jung di quelle che sono state delle ripetute correlazioni tra fenomeni psicologici e dei dati astrologici che lui aveva raccolto nel tempo lo portò a formare quel principio su cui noi baseremo poi insomma tutto il racconto di questa sera e lo portò a formulare la sua teoria della sincronicità. Ecco, con questo termine egli faceva riferimento a quella che è la simultaneità di un certo stato psichico con uno più eventi esterni e conseguentemente prese sempre più sul serio quelli che sono i fenomeni sincronistici che stavano poi alla base dell'astrologia e divenne sempre più convinto che quest'ultima funzionasse proprio in virtù della sincronicità e cioè che la struttura psichica ed emotiva, emozionale anche di un'adatta persona si trovasse in una sorta di significativo parallelo con le posizioni planetarie e al momento della sua nascita ma anche poi insomma con le posizioni planetarie che nel corso della vita raccontavano quelle che sono quelle che potevano essere le esperienze di crescita e di trasformazione dell'individuo e insomma sempre per rispondere di più ad avvicinarci alla risposta a quella che è stata la tua domanda che se ne dica diciamo che nulla appartiene al caso, spesso quello che è il rapporto tra causa e conseguenza è qualcosa che non riusciamo mai bene a riquadificare o comunque spesso ci troviamo insomma in una situazione di difficoltà forse perché non so facciamo delle scelte importanti quando siamo troppo giovani per poterci magari ritenere responsabili a tutti gli effetti o magari perché le portiamo avanti proprio perché l'ambiente circostante ci mette forse anche un po' di fronte a quelli che possono essere dei passaggi obbligati però insomma ad ogni modo se ci soffermiamo ad esaminare quella che è un po' la storia della nostra vita possiamo proprio renderci conto del verificarsi di questa diciamo inspiegabile sincronicità a cui Jung faceva riferimento. Io credo che non possiamo maledire o ringraziare il caso nel momento in cui noi facciamo esperienze del mondo e di quelli che poi chiamiamo anche magari i nostri lati ombra o quelli che sono insomma i drammi della vita con cui ci dobbiamo confrontare e che magari poi sono anche stati un po' chiusi in un cassetto e che necessitano di vedere la luce del sole e i ritmi planetari cercano proprio di fare questo ovvero di farli emergere perché noi ne prendiamo piena coscienza e piena consapevolezza. Noi siamo perennemente convogliati verso la scoperta di quelli che sono i nostri lati segreti mediante anche e soprattutto quello che può essere poi l'incontro con il mondo esterno. A tal proposito i ritmi della nostra vita vanno di pari passo quindi con quelli che sono i modi, i transiti planetari e c'è da chiarire qui subito una cosa a mio parere ovvero che i transiti dei pianeti diventano poi importanti quando vengono contestualizzati all'interno del nostro tema in tale personale, mentre quelli che tradizionalmente leggiamo seppur magari anche nelle riviste di settore hanno però chiaramente delle definizioni di carattere direi molto generale che quindi non si possono ricondurre nello specifico a ciò che ciascuno di noi poi sta vivendo in un determinato momento della propria vita. Quindi i transiti planetari ci danno indicazioni su come si muovono le nostre energie interne proprio perché quando parliamo di modi planetari stiamo automaticamente parlando di energie interne appunto, sono nostre che sono direttamente e analogicamente collegate poi ai corpi celesti. Tutti noi abbiamo un tema natale e questo tema natale viene quindi costantemente e ripetutamente più volte sollecitato e attivato dal movimento dei pianeti, quindi tutto ciò che giorno dopo giorno, momento dopo momento siamo chiamati in base a quelle che poi sono le esperienze che la vita ci propone, siamo chiamati a far crescere, a sviluppare, a far evolvere, ecco tutto questo viene accompagnato da quelli che sono i transi planetari e ci sono diverse tipologie poi di transiti, quelli ad esempio ad opera di Saturno, Urano, Nettuno e Plutone che sono poi pianeti lenti, alcuni lentissimi come ad esempio Plutone che compie il giro dello Zodiaco addirittura in 264 anni circa, quindi va ben oltre quella che è la portata poi della vita umana, oppure Nettuno che impiega oltre 160 anni per compiere l'intero Zodiaco, mentre il transito che possiamo definire un vero cronometro della nostra vita è quello poi ad opera di Urano che impiega poco più di 80 anni per compiere l'intero Zodiaco accompagnando più di tutti quella che è un po' la vita umana e che oggi si aggira poi insomma intorno a una media di 80 anni. Ecco, questa prima introduzione diciamo così in risposta un po' alla tua domanda per capire effettivamente che cosa intendiamo per transiti planetari, per movimenti planetari e che chiaramente vanno riferiti al nostro tema natale personale, perché da soli non possono avere una spiegazione effettivamente chiara, se non estremamente generale e generalizzante e che quindi comunque non trovano una collocazione vera all'interno della vita del singolo, ecco e noi studiamo astrologia umanistica, quindi ci rapportiamo al singolo individuo nella sua totalità. Benissimo, e quindi la frase iniziale dell'importanza di questi transiti perché sono un'occasione di crescita e di evoluzione personali perché come dicevano sono delle forze interne che agiscono in base anche al nostro tema natale, se non erro, giusto? Assolutamente sì, chiaramente bisogna metterli in relazione, esatto, come dici tu, a quello che è il nostro tema natale personale e la combinazione tra un dato momento celeste, quindi una data configurazione in un determinato momento della nostra vita, sollecita quello che è una sorta di esperienza chiaramente riguardo a quello che poi è il nostro tema natale di base, quindi va a stimolare tutta una serie di questioni che ci riguardano direttamente, di cui noi siamo direttamente responsabili e che vanno lette, consensualizzate nel nostro tema natale e come se dicessimo dall'altra parte del mondo sta accadendo una particolare cosa, una cosa piccola, non pensiamo a catastrofi per esempio, però a noi… Sono delle energie come dicevi. Ecco, lo dobbiamo contestualizzare in un contesto, in un qualche cosa, in un luogo, in una persona, insomma… Nel nostro piccolo cosmo… Esattamente, esattamente… Che è complesso e che è unico, che quindi questi transiti passano e hanno una rilevanza personale, no? Solamente proprio perché è personale, con delle forze che agiscono personalmente, per cui anche qui la precisione di… come mi sembrava che appunto avessi sottolineato prima, è difficile, come dire dai… da quelli che sono i quotidiani, poter capire la portata di certe forze, vanno sempre rilevate a livello personale. Assolutamente, perché sarebbe come dire, altrimenti, non lo so, di fronte a una barzelletta, no? Sì. Le darà del ridicolo, diciamo, a questa battuta, insomma, e dipende da come siamo noi, cioè dipende da ciò che il pianeta tocca e tocca a quello che è il profondo della nostra anima e per ciascuno di noi è differente, in base al contesto della nostra nascita, in base al nostro grado di evoluzione fino a determinato momento della vita, in base a quelle che sono le circostanze, l'ambiente nel quale siamo inseriti, all'educazione che abbiamo avuto, alla formazione, all'accoglimento che abbiamo trovato, insomma, in base a tutta una serie di caratteristiche che rappresentano e che accompagnano, insomma, la nostra vita, in base a quella che è la nostra formazione personale, ecco che allora il transito agirà lo stesso identico transito, agirà per me in un modo, per te Laura in un altro e per chiunque altro in un'altra maniera, la stessa barzelletta farà ridere qualcuno e piangere qualcun altro, insomma, ecco questo, va contestualizzata. E allora a questo punto ci hai nominato dei pianeti, Plutone, abbiamo Marte, abbiamo Giove, noi conosciamo la Luna, per esempio, noi conosciamo la Luna, quale pianeta che in qualche modo condiziona per esempio la semina piuttosto che l'imbottogliamento del vino e tanto altro, no? I nostri, anche mio nonno, mio papà stesso sa che c'è un certo tipo di importanza in questa, ma al di là di come la Luna influisce per esempio anche nelle maree, quindi nella vita sulla Terra, vediamo come anche gli altri pianeti che caratteristiche hanno e anche la Luna che caratteristiche ha per noi, quindi andiamo a capirlo sull'essere umano, che tipo di forze agire, quali sono queste forze classificate in base ai pianeti? Certo, allora le forze sono molteplici, cercherò adesso di dare un messaggio mediamente sintetico e comunque chiaro per capire quanto effettivamente sono potenti e profonde le simbologie dei pianeti che comunque insomma viaggiano sulle nostre teste, ad esempio per prenderne uno, Urano è ad esempio proprio il nostro accompagnatore, quello che segna con le sue tappe anche quelli che sono i movimenti salienti della nostra vita, quelli in cui siamo chiamati a risvegliare delle parti di noi che magari non abbiamo sviluppato subito o che più semplicemente non conosciamo, in quanto non è facile poi per noi conoscerci, noi siamo tutti estremamente convinti o quasi di conoscerci benissimo, però poi in realtà non è proprio così vero ecco e molte delle cose che facciamo non è detto che siano sempre fatte nel pieno della nostra coscienza, soprattutto poi nella prima parte della vita dove gli automatismi in qualche modo prendono il sopravvento al di là di quella che è la nostra piena consapevolezza, quindi esistono proprio delle tappe, ad esempio nel caso di Urano le tappe fondamentali sono i 20 anni, i 40, i 60, gli 80 anni, sono tappe straordinarie che poi ci parlano proprio di momenti in cui siamo in un certo qual modo chiamati a risvegliare delle energie in quanto Urano scandisce proprio i nostri momenti di individuazione, ovvero il ritornare ad essere degli individui, tornare quindi a crescere, a conoscere poi soprattutto tutte le nostre parti e soprattutto a far sì che queste parti finalmente collaborino, proprio perché le difficoltà che noi incontriamo nella vita sono spesso difficoltà dovute ai nostri conflitti, faccio dei piccoli esempi, Laura giusto per chiarire, vorremmo magari in alcuni momenti stare da soli, però poi nello stesso tempo vorremmo essere in relazione, vogliamo fare ciò che più ci piace, indipendentemente poi dalle relazioni, però nello stesso tempo vogliamo essere amati e accettati, vogliamo raggiungere l'indipendenza, ma nello stesso tempo vogliamo essere protetti dalla famiglia e da essere contenuti, abbracciati e sorretti, insomma sono conflitti direi significativi perché tutti noi poi chi più chi meno gli viviamo, conflitti poi che in un modo o nell'altro prima o poi ci spingono per forza di cose a trovare, a cercare, a trovare una soluzione, una mediazione, ecco in quanto man mano che cresciamo ci troviamo di fronte a dover cercare di mediare tra quelle che sono delle parti di noi che non si conciliano per niente, magari riuscendo poi a trovare quella che è una sorta di strada per vivere entrambe le cose legate a una data questione e che fino a un dato momento abbiamo ritenuto inconciliabili in quanto abbiamo pensato che una cosa dovesse necessariamente escludere l'altra, ecco i pianeti ci parlano del fatto che noi abbiamo all'interno diverse funzioni e che queste funzioni non tutte da subito collaborano tra di loro, quantomeno appunto inizialmente non tutte vanno proprio d'accordo, ma che nel tempo dovranno imparare a collaborare, ecco in questo è in situa il percorso evolutivo che poi siamo chiamati a intraprendere nel corso della nostra vita, proprio al fine di diventare persone migliori, insomma riconoscendo tutte le nostre parti senza che alcune ne escludano delle altre e il tempo in cui siamo chiamati a comprendere quelli che sono poi i nostri conflitti o comunque a risvegliare quella che è la nostra autenticità viene scandito proprio dai transiti, soprattutto i transi ad opera dei pianeti lenti che sono davvero molto importanti in quanto ci spingono a elaborare dei veri e propri processi di crescita che a volte poi ci risultano anche molto difficili in quanto per noi è difficile, è ciò che meno conosciamo, la nostra coscienza nel momento in cui noi arriviamo intorno ai 20 anni ha già preso in qualche modo un suo indirizzo, quindi quando abbiamo già una modalità di approccio alla vita, se poi in alcuni momenti ci viene proposto qualcosa di completamente diverso, la coscienza fa davvero molta fatica e noi tutti facciamo fatica, facciamo delle resistenze certo, caspita, parecchio molto forti, delle forti resistenze ai cambiamenti, cambiare non è una cosa semplice proprio per niente, però la vita spesso accompagnata, descritta dai transiti planetari ci prospetta dei cambiamenti, nel senso che in qualche modo noi veniamo a trovarci dentro a delle situazioni che ci mostrano chiaramente i nostri conflitti, a questo punto insomma inesorabilmente siamo chiamati a fare dei passi, dobbiamo in un certo qual modo trovare delle nuove risorse, perché con le vecchie risorse non ce la possiamo più fare, qualcosa si deve trasformare. Bene, e quando invece per esempio abbiamo Marte in transito? Quando invece abbiamo Marte in transito, diciamo che questo appartiene alla schiera dei pianeti veloci, dei pianeti personali e Marte compie il giro dello zodiaco in due anni circa, a differenza di Saturno che ci mette 29 anni e mezzo, oppure come diciamo prima Plutone oltre ai 260 anni, quindi ecco che scandisce dei momenti e delle esperienze che hanno una dimensione decisamente, non voglio dire meno profonda assolutamente, perché ha la sua importanza anche Marte come il transito della Luna piuttosto che, però diciamo che ci accompagnano più nelle esperienze di vita quotidiana, ecco un transito di urano o quello che dicevamo prima, scandisce una determinata esperienza in un arco di tempo che può essere quello di 3, 4, 5 anni, cioè punta il dito nel bene e nel male per tanto tempo, in una nostra situazione, in un qualche cosa che ci deve far evolvere, cambiare, trasformare in qualche cosa che dobbiamo capire? Marte, il transito di Marte nel suo moto ordinario dura 15 giorni, 20 giorni, ecco quindi più il transito è lento, più è lungo, più è importante, più è profondo, più è eccessivo, più ci vuole raccontare e far capire qualcosa, più il pianeta rimane e persiste, più si sforza diciamo così simbolicamente nell'intento di farci vedere qualcosa. Esattamente, vuol dire che c'è molto di più da lavorare in quell'ambito e quando c'è molto da lavorare in un determinato ambito della nostra vita intervengono i piele clienti proprio perché con la loro lentezza, piano piano, passo dopo passo ci accompagnano con molta pazienza, diciamo così, all'interno e al centro dell'esperienza. Poi ci sono altri transiti importanti come ad esempio per nominare un altro pianeta super lento che è appunto dicevamo prima Plutone che ci permette invece di capire pian piano man mano che noi cresciamo che cosa conta veramente per noi. Ecco Plutone è molto legato a tutti quelli che sono i nostri processi di trasformazione, ma trasformare vuol dire cambiare la nostra forma e spesso Plutone induce poi a lasciare quindi la vecchia forma, diciamo che probabilmente il vecchio modo in cui abbiamo approcciato alla vita, le relazioni, le situazioni familiari e quant'altro in un determinato momento è come se questa modalità entrasse un po' in crisi, la sensazione che poi noi abbiamo è un po' quella del fallimento, sentiamo un forte peso nello stomaco, percepiamo che più niente funziona, siamo chiamati veramente a fare uno sforzo molto molto grande per trovare delle risorse nuove e nello stesso tempo per attivare quelle che sono delle modalità di comportamento che si appoggiano a dei valori diversi rispetto a quelli che abbiamo utilizzato fino a un momento precedente. Quindi molte volte abbiamo proprio la sensazione di dover buttare via qualcosa, sarà capitato a tutti noi anche più volte, di dover lasciare andare qualcosa perché la nostra vecchia forma non risponde più, è come se una parte diciamo così recondita di noi stabilisce che le cose così come sono non vanno più bene in virtù proprio del progetto di vita che dobbiamo seguire e magari ci stiamo proprio in qualche modo accorgendo che non siamo in linea con i nostri bisogni personali. Ecco questo perché il tema natale poi racchiude in sé quello che è il progetto della nostra vita. Noi non siamo qui giusto per fare un viaggetto di 80 anni, perché lo abbiamo detto anche, lo abbiamo detto anche altre volte, ma forse è meglio ripeterlo Giuseppe, perché credo che sia molto importante, magari si pensa che il tema natale sia relativo alla persona, alla personalità, invece c'è tutto un altro discorso relegato al tema natale che secondo me è molto bello da puntualizzare. Grazie. Certo, assolutamente, ripetiamolo pure, diciamo che il tema natale racchiude in sé quello che è il progetto della nostra vita, noi non siamo qui giusto per fare un viaggetto di 80 anni, abbiamo un preciso compito da svolgere in questa vita terrena, che ne siamo consapevoli o meno che lo vogliamo accettare o no, insomma la nostra vita non è fatta soltanto di la mattina mi sveglio, vado a lavoro, torno alla sera, decido cosa guardare la televisione, vediamo se c'è Maria De Filippi piuttosto che Sanremo, insomma adesso con tutto rispetto per i programmi di intrattenimento, però non è soltanto cosa decido, vado al cinema oppure non lo so, rimango in casa, ma cosa facciamo? Ma sì dai, rimaniamo in casa, fa freddo, ecco, la nostra vita non è scandita soltanto su quelle che sono delle piccole cose di vita quotidiana che per l'amore di Dio è giusto che riempiano anche un po' la nostra vita, però diamo la nostra vita un po' più di spessore e cerchiamo quello che è un valore decisamente più profondo e questo valore lo racconta all'interno del progetto, proprio la posizione del sole e l'intema natale tutto, certo poi dipende dalla nostra filosofia di vita, però insomma noi nasciamo con uno scopo e un indirizzo ben preciso, quindi dobbiamo sviluppare qualcosa di preciso nella nostra vita e a tal proposito dobbiamo farci carico della nostra vita, a noi sembra che tra l'altro ci sembra forse di farcene carico, però in realtà non è sempre così, l'autonomia è un concetto molto importante, spesso è una sorta di miraggio, quantomeno se parliamo dell'autonomia emotiva, perché poi magari quella materiale sì, a un certo punto della vita più o meno tutti noi in qualche modo la possiamo raggiungere, invece quella affettiva ed emotiva è sempre un po' più complicata da raggiungere e teniamo conto che poi il concetto di autonomia e di sviluppo del proprio io è come dicevo prima dettagliatamente raccontato dalla carta natale e dal tema natale di ciascuno di noi ed è proprio in quel progetto che dobbiamo, a quel progetto insomma che dobbiamo tenere fede, se vogliamo poi veramente sentirci realizzati e trovare come si suol dire insomma un posto nel mondo, ecco ciclicamente i transiti dei pianeti lenti è come se ci chiedessero conto di dove siamo rispetto al nostro progetto, ovvero se siamo in linea, se siamo nei tempi soprattutto, perché ad esempio Saturno scandisce i tempi di crescita ed è chiaro che quello che insomma dobbiamo fare a 25 anni non lo possiamo fare a 60, saremo un po' in ritardo, ci sentiremo assolutamente in adeguati, quindi se non riusciamo a fare una determinata esperienza, quantomeno negli anni successivi a quelli che sono i tempi chiamiamoli così canonici, cominciamo ad arrancare, le cose cominciano ad apparire difficili, ci sentiamo sempre in una corsa, è che non è una corsa contro il tempo, covando anche una sensazione di inadeguatezza, di smarrimento, quasi di fallimento poi per certi versi a volte, capita anche questo, chi trova difficoltà nell'individuare quelli che sono gli obiettivi e poi anche nel portarli avanti probabilmente deve capire qualcosa del suo progetto, perché a volte la difficoltà sta proprio nel comprendere quali sono gli obiettivi da perseguire che sono insiti in quello che è il proprio progetto di vita e ognuno di noi ha degli strumenti e infatti il tema natale può essere questo strumento, è come dire uno specchio al quale noi possiamo guardare per guardare all'interno di noi stessi, quindi parliamo di appunto non una vita più che altro di relazione materiale quanto in un aspetto spirituale che entra in gioco e nel quale noi possiamo fare affidamento in questo nostro tema natale e poi magari appunto cercando di capire quali sono poi gli avvenimenti adesso, quindi l'aspetto della nascita e la contingenza di adesso, quindi per esempio nel mio caso dopo 42 anni, quindi come agiscono queste forze? Certo, assolutamente, è l'occhio che dobbiamo dirigere su quello che è il nostro tema natale rispetto a quelli che poi sono i transiti di un determinato momento, ecco tutto questo dovremmo, noi dovremmo cercare proprio di andare a capire che cosa dobbiamo fare, qual è la nostra linea di condotta, la strada che un po' dobbiamo seguire sulla base di quelle che poi sono anche le nostre attitudini rispetto a quella che è la nostra vocazione e quant'altro ecco ciascuno di noi dovrebbe riuscire a capire dove vuole andare, che direzione seguire, il classico che cosa voglio fare da grande, ecco queste sembrano cose davvero molto scontate però in realtà chissà quante persone, insomma e quante volte… Nel corso della vita possiamo avere un sbarrimento e quindi magari poter fare anche, come dire perché no, un riferimento a questo tipo di strumento, ce ne sono tanti, può esserci la numerologia, come può esserci per esempio la astrologia umanistica, ma non hai detto proprio come si calcola il tema natale? Il tema natale allora in base al luogo di nascita, alla nostra data di nascita, alla nostra ora di nascita, ci sono tutta una serie di calcoli che vengono fatti dal punto di vista proprio matematico in relazione a quella che è anche un'altra disciplina che è l'astronomia e mettendo insieme tutta una serie di calcoli andiamo a disegnare quella che è l'esatta posizione dei pianeti in quel dato luogo, in quella data di nascita, in quella data ora, ecco da qui prende forma il disegno del sistema natale che raggruppa tutta una serie di settori oltre ai pianeti abbiamo i 12 segni zodiacali e altri 12 corrispettivi campi chiamati case astrologiche che rappresentano 12 diversi settori esperienziali della nostra vita, in base alla relazione che i pianeti hanno tra di loro all'interno della carta, la posizione che occupano, agli aspetti quindi alle distanze angolari che formano tra di loro e in base a tutta una serie di questioni attraverso un linguaggio simbolica spiegano in quello che è il linguaggio zodiacale quelli che sono le nostre potenzialità, le nostre carenze, le nostre difficoltà, i nostri drammi, i nostri punti di arrivo, tutte quelle cose che ci appartengono e siccome possiamo far leva per cercare di migliorarci di andare avanti nel corso della nostra vita, il tema natale tutto indica quello che è il nostro progetto la direzione che ci è suggerita rispetto a quello che è la nostra composizione psicologica di base, insomma è uno strumento davvero prezioso nelle mani dell'uomo, tra le mani è davvero uno strumento molto potente per riuscire non solo a comprenderci, ma anche a capire effettivamente poi in che direzione stiamo remando, se stiamo tenendo in mani il timone della nave che stiamo guidando oppure se stiamo andando fuori rotta, ecco la astrologia ci aiuta in tutto questo, ci aiuta veramente a capire in un determinato momento anche della nostra vita, che magari è difficile da saturre a livello cosciente, ma che emotivamente ci sta magari logorando, il perché stiamo vivendo quella determinata esperienza dove affonda le sue radici, che cosa stiamo rimettendo in gioco di noi, che aggancia con il nostro passato, con il nostro vissuto, con le nostre tradizioni personali e dall'ambiente, magari Natale dal quale veniamo, il perché stiamo vivendo quella cosa soprattutto, il perché che è una cosa fondamentale, a noi non interessa soltanto sapere che cosa stiamo, che tipo di esperienze stiamo facendo, quella la voglio dire, se non è oggi o domani la possiamo anche mettere per iscritto, ma noi dobbiamo capire il perché la stiamo vivendo, perché siamo sollecitate a volte così aspramente anche le esperienze che la vita ci propone, capire il perché significa andare a ricercare le motivazioni profondi e la loro origine e quindi cercare di capire come mai siamo spinti in una direzione piuttosto che in un'altra, anche quando stiamo magari affrontando effettivamente dei drammi in piena regola, oppure al contrario quando stiamo vivendo delle fasi di piena felicità dove abbiamo dei riconoscimenti, dove ci sentiamo realizzati, una relazione che funziona nella presezione con la quale, come dire, con una persona che ci sentiamo in piena sintonia piuttosto che un lavoro che ci appaga, insomma anche chiaramente gli aspetti straordinari della nostra vita, ecco vengono raccontati all'interno del tema natale e in relazione a quelli che sono i transiti planetari, i transiti ci premiano, se noi voglio dire cerchiamo di seguire quello che è il nostro progetto interno, i transiti racconteranno e disegneranno nel cielo una storia meravigliosa per noi, dipende da quella che è un po' la linea di condotta che noi cerchiamo di in qualche modo adottare, se io inizio, faccio un esempio banale dei miei per capirci, se mi introduco in un contesto lavorativo e faccio un periodo di prova, se ci sarà da parte mia non bravura, ma comunque impegno, costanza, presenza, dedizione, amore, ecco che arriverò alla stipula del contratto pronto dove io troverò un foglio nel quale poter fermare la conferma del proseguimento del mio lavoro, ma se io arrivo in ritardo, me ne frego quando sono lì, non svolgo il mio dovere, passo più tempo alla macchinetta del caffè e al cellulare che nel luogo dove dovrei stare, ecco che arrivo all'incontro con la stipula del contratto e chiaramente ci sarà qualcosa che non funzionerà, perché io devo rendere conto di quello che faccio, ma non lo devo rendere conto agli altri, rendendone conto all'attore di lavoro, sto rendendo conto a me stesso, sto rendendo conto alla mia vita, sto rendendo conto a quello che è il percorso che sto facendo e quanto impegno ci sto mettendo, quindi non sono i transiti che indicano un qualche cosa di bello o di brutto che arriva, i transiti riflettono e raccontano quella che è poi la linea di condotta che io autonomamente ho scelto di adottare, quindi non diamo colpa, questo concetto ci deve, Laura lo sottolineo perché ci tengo un po' a responsabilizzarci nella vita e qui continuiamo ad additare il mondo esterno dal colpa agli altri di quelli che sono i drammi che noi recitiamo sul palcoscenico della nostra vita, non possiamo fare questo, insomma Ma diciamo che quella è la parte più facile, perché poi la parte più difficile è quella di cominciare a guardare dentro di noi, perché tutto ciò che ci succede ci appartiene, è triste nel momento in cui ci sono delle forti delusioni e problematiche, però la grande presa di posizione è quella che la vita ci ama e se succede questo vuol dire che doveva creare un movimento dentro di noi, la nostra anima ha creato appositamente qualcosa di veramente forte per smuoverci e portarci anche a vedere delle altre cose, ad uscire da lì con magari appunto, ripeto, tanto dolore che però appunto tu ci dici ci sono, sono presenti anche nella carta natale Certo, poi ci sono dei momenti nella vita, come appunto dicevamo, in cui arrivano i transiti che ci mettono completamente a nudo, mettono completamente a nudo la nostra precarietà interna e lo scopo chiaramente però non è quello di farci star male così gratuitamente, però in realtà è come se noi ciclicamente dovessimo in qualche modo correggere degli atteggiamenti delle dinamiche che ci appartengono, in tutto questo i transiti sono delle grandissime occasioni di acquisizione di cose nuove, soprattutto quando stiamo parlando dei transiti di Urano, torniamo al pianeta che abbiamo nominato prima, in quanto Urano sollecita poi quella parte di noi che non può rimanere uguale nel tempo e quindi magari durante un transito di Urano ci confrontiamo con aspetti nuovi della vita che ci invita a conoscere di più, che ci invita a cambiare qualcosa, ad apprendere qualcosa, che magari fino a quel momento non conoscevamo e tutto questo poi ci permette di scoprire delle qualità nostre che non abbiamo fino a quel dato momento mai messo a fuoco, in altre occasioni i transiti ci sbarrano proprio la strada, ci sembra magari di essere diretti da qualche parte, invece all'improvviso tutte le strade che portano in quella direzione predeterminata sembrano bloccate e questo significa che con buona probabilità siamo abbastanza fuori progetto, ritorniamo al tema Natale, che dobbiamo fermarci un attimo per capire prima di tutto qualche cosa in più di noi, rielaborare, ritrovare delle motivazioni dentro di noi per comprendere se e quanto poi soprattutto è forte la motivazione che ci stava spingendo verso quella determinata direzione, i transiti planetari ci aiutano a fare quello che è una sorta di esame di realtà, ci dicono fermarci un attimo e vediamo che cosa stai facendo, sei nella direzione giusta, ragionaci bene e forse davvero questa è la tua strada, se ci sono tutta una serie di cose anche piccole che ci sbarrano la strada, sei sicuro che questa è la direzione che devi prendere? Rifletti, pensaci un attimo, forse non è il tempo o forse non è la strada, se non è questa sarà un'altra, insomma anche l'ostinazione di fronte a certe mete che vogliamo raggiungere allora è giusto, a mio parere, ma credo a parere di tutti, lottare per il raggiungimento di quelle che sono delle sane mete che ci prefiggiamo nel corso della vita, ma quando noi continuiamo a lottare sempre che stiamo lottando contro il nulla, forse dobbiamo renderci conto che probabilmente, dico solo probabilmente, magari non è proprio quello il nostro giusto punto di arrivo, forse un suo punto di arrivo è un altro e durante il percorso i transiti ci fanno cambiare rotta proprio perché probabilmente è una deviazione che dobbiamo prendere verso un nuovo lido, una nuova vetta che era diversa da quella che avevamo pensato e magari poi, costano di poi, piano piano ci accorgiamo che effettivamente la nuova strada intraprese è decisamente migliore, è molto più conveniente, è molto più valida, ci si veste più a pennello rispetto a quello che pensavamo potesse essere la strada vecchia, c'è tutto un motivo e un incasso preciso della nostra vita, ma questo non vuole dire avere uno spazio, un percorso determinato, semplicemente si tratta di ciò che è più congeniale per noi, più utile, più adatto per la nostra crescita, per la nostra realizzazione, per sentirci veramente noi vivi nel pieno delle nostre capacità e soprattutto rispetto a quelle che sono, come dire, le nostre vocazioni. Ok, perfetto, ma allora la domanda mi sorge veramente spontanea e diretta, è possibile a questo punto sottrarsi all'influsso dei pianeti? Allora, non solo è possibile, ma direi forse è possibilissimo, nel senso che comunque ci sono tutta una serie di suggerimenti che i pianeti ci danno, ma io comunque posso cercare in base a quella che è un po' la mia struttura di base, i condizionamenti che mi porto dietro, la mia cosciente volontà di non mutare quella che è la mia condizione, seppur magari sono all'interno di una situazione nella quale non vivo bene una determinata, diciamo così, una determinata esperienza, una determinata parte, un determinato aspetto della mia vita, i transiti chiaramente cercano di farmi capire questa cosa, cercano di rendermela il più vivo e il più vero possibile, soltanto che posso comunque poi decidere di non cambiare rotta, posso decidere di continuare a perseverare in quella che è il dramma che sto portando avanti, perché comunque ho paura di apportare forti cambiamenti. La dinamica dei transiti è un po' particolare, nel senso che non sono obbligato, non c'è nulla che mi obbliga, però chiaramente continuerò a rimanere in una situazione che chiaramente bene non mi fa e allora facciamo l'ipotesi che io lavoro all'interno di un contesto nel quale non mi pagano da 6 mesi, il miglioratore di lavoro mi tratta male ogni volta che mi vede, con i colleghi non ho assolutamente un buon rapporto, mi sento un esiliato, sono lì per 10 ore al giorno, lo straordinario non mi viene pagato, insomma sono in una situazione professionale veramente disastrosa. Bene, a lungo andare piano piano i transiti mi fanno capire che forse devo trovare il coraggio di cambiare lavoro, di ribellarmi, ma ribellarmi non tanto contro dettore di lavoro che forse da lì in questo contesto non cambierà mai nulla, ma devo cambiare il mio modo di approcciarmi al lavoro, devo cambiare probabilmente lavoro, devo intraprendere un'altra strada e allora prima contemporaneamente a un transito e qui la rendo semplice ma per capire il messaggio, contemporaneamente a un transito storto diciamo così di matte, cado e mi rompo la gamba, quindi questa cosa mi viene, esagero per capirci, e rimango a casa per un mese e mezzo, intanto penso, e il transito lavora, guarisco, torno al lavoro, il secondo giorno che io torno al lavoro mi si rompe la macchina e quindi ancora ho difficoltà nel raggiungere il mio posto di lavoro, sistemo la macchina, arrivo un altro transito, in contemporanea poi i transiti solitamente lavorano in 3, 4 in accoppiata, non è che c'è uno solo, quando soprattutto vogliono essere incisivi e dare un messaggio deciso, a un certo punto faccio un incidente con la macchina, quindi non solo faccio la macchina e la devo buttare, mi faccio male anch'io, insomma ogni volta il messaggio dei transiti e traduciamolo, riportiamolo alla nostra vita reale, ogni volta i segnali della vita sono sempre più forti, sempre più amplificati, di passo in passo, la prima volta riceverò un messaggio che equivale a uno schiaffo, la seconda volta riceverò un messaggio che equivale a 10 sberle, la terza volta riceverò un messaggio che è uguale a 20 pugni sulla pancia, insomma ogni volta sentirò sempre più dolore fisico, emotivo, psicologico, che mi sarà dicendo, è un suggerimento questo, bello chiaro, attraverso una serie di piccole esperienze che la vita mi sta portando, attraverso questi segnali qualcosa devo capire, posso anche cercare di non capire, allora rimettermi in sesto e prendere i mezzi di trasporto, una volta che la macchina è completa, siamo al terzo passaggio, macchina distrutta e io tutto rotto, mi rimetto in sesto e prendo i mezzi, insomma, posso continuare a ostinarmi, a rimanere? Ma vuol dire che non riesco a vedere, non riesco a vedere che cosa la vita mi sta chiedendo, mi sta dicendo, ma soprattutto non è la vita, ma è il mio inconscio, il personale a questo punto, che riflette appunto il tema di Natale. Non riesco a vederlo, oppure non voglio vederlo, perché poi c'è anche questa questione da valutare. Non riuscire a non vedere, hai ragione, certo. Ecco, ecco, è questo, quindi insomma, sono argomenti un po' delicati, chiaramente dipende veramente tutto molto da noi, poi a un certo punto i transiti tra virgolette negativi, cioè quelli che sollecitano in maniera così pesante svaniranno e magari mi lasceranno in pace per i prossimi 6 anni, ma siccome i transiti, in virtù della loro ciclicità, i pianeti in qualche modo tornano a fare degli aspetti con il suo tema Natale in maniera ciclica, l'appuntamento poi sarà soltanto rimandato, non sarà chiuso, l'appuntamento sarà rimandato. Io ho superato quest'anno dove ho avuto una serie di input abbastanza pesanti relativamente appunto a questo benedetto lavoro, torniamo alle tempi di prima, che devo cercare di cambiare, dopo cerco un annetto i transiti che mi invitano a questo cambiamento terminano perché proseguono nel loro moto celeste, però mi danno appuntamento, secondo quella che è una geometria planetaria e astronomica, secondo quelli che sono dei passaggi ciclici astronomici, mi danno appuntamento fra 6 anni e qui do un altro numero, mi ritroverò di nuovo di fronte a un qualche cosa di simile, però all'appuntamento successivo tutto si amplifica 4 volte tanto, posso cercare di sottrarmi nei transiti planetari, ci posso anche riuscire, finiamo di rispondere alla domanda, fino a un determinato momento, a un certo punto ci sarà un qualche cosa che nella mia vita veramente mi darà uno stop, decisamente molto più forte, prima che accada questo è giusto, è corretto nel confronto di se stessi cercare di prendere coscienza, di farsi aiutare, di trovare un confronto con, e qui possiamo elencare tutti gli strumenti che dicevi prima, con uno psicoterapeuta, con astrologia, con tutto quello che è uno strumento che è in grado di supportarci e di far chiarezza dentro di noi, anche se questo sia, nella realtà dello strumento stesso, è questo, insomma quindi ecco, quindi è possibile sottrarsi, ni a questo punto, io direi ni, esatto, perché insomma, arriva un momento ma la vita stessa ci chiama effettivamente e vuole che noi rendiamo conto di quello che effettivamente stiamo facendo e lo fa con tutti noi, con piccole e grandi cose, dipende da quanto noi siamo in linea, torniamo al discorso di prima con quello che è effettivamente il nostro progetto personale, ecco, di questo ne dobbiamo sempre tenere conto. Ok, allora, ritorno a questo punto di nuovo sulla responsabilità, Giuseppe, e sulla responsabilità, quindi io sono profondamente convinta, insomma, che ci sia una responsabilità nostra profonda di tutto ciò che ci accade, perché bene o male ci appartiene in un certo senso, magari è difficile, ecco, però questo vorrei sentirlo da te, siamo o non siamo responsabili di ciò che è esterno a noi, cosa ci dice l'astrologia umanistica a questo punto? Sì, allora, siamo assolutamente responsabili comunque di quello che c'è esterno, nel senso che comunque, torniamo all'esempio di prima, quel lavoro comunque me lo sono scelto io e continuo a scegliere di proseguirlo nonostante, cioè di portarlo avanti, nonostante ci siano tutta una serie di condizioni che non sono per me valide, positive, che non mi gratificano, insomma, nonostante ci siano tutta una situazione, una serie di situazioni assolutamente negative di cui io comunque, voglio dire, che io conosco assolutamente bene e che comunque posso ad ogni modo continuare a procedere per quella strada che avevo deciso, non ci sono quindi, come dire, situazioni che ci obbligano in maniera assoluta e totale a un qualche cosa, ci sono tutta una serie di situazioni, di eventi accompagnate, quindi raccontate del transito e plantare che invece ci invitano, ci suggeriscono, ci esortano a fare, siamo assolutamente responsabili di quello che facciamo, giorno dopo giorno, istante dopo istante, ogni singola scelta è fatta assolutamente da noi, dalla nostra volontà, poi se nel pieno della consapevolezza o meno, questo è tutto un altro discorso, perché a volte agiamo mediante quelli che sono proprio degli automatismi, però il tutto dipende effettivamente da noi, poi è chiaro, qui si sta parlando l'astrologia umanistica incentrata sulla persona, racconta dell'individuo e indarga l'animo umano dell'individuo, io non mi occupo, non l'astrologia umanistica che si occupa di astrologia collettiva e di astrologia mondiale, quindi quelli che sono, diciamo così, di una serie di eventi che riguardano quello che è il mondo collettivo, sinceramente non sono neanche abbastanza capace di rispondere, non voglio dare una risposta esattamente personale, voglio tenermi anche a quelli che sono dei dati oggettivi che ho raccolto in questi anni di esperienza e con lo studio, con i miei insegnanti, quindi siamo comunque sì responsabili di quello che ci accade, siamo noi fautori, promotori della nostra vita, giorno dopo giorno, in tutto quello che sono le esperienze che noi viviamo, apparentemente qualche volta ci sembra che ci siano degli eventi che piovono sulla nostra testa senza che noi ce ne accorgiamo, ma è appunto… Che sono dalla nostra volontà, no? Che esolano esattamente dalla nostra volontà, però… E perché questo succede? Perché poi in realtà c'è tutta un'energia intorno a noi che è fatta dall'insieme delle singole energie, quindi la mia, la tua, quella di chi ci ascolta, quella di chi non ci ascolta, che lavora in una sorta di incastro perfetto, diciamo così. Ok, ve li facendo scusa, mi difermo a quello che diceva Jung, c'è un inconscio personale ma c'è anche un inconscio collettivo che agisce su di noi. Esattamente, ed era lì che volevo anche un po' arrivare, quindi grazie Laura. Scusami. Grazie Laura, no no, perché c'è anche, rispetto alla sincronicità che diceva Jung, c'è anche una sincronicità tra te e me che insomma mi fa piacere. Sì, è uscita, è uscita. Sembrava preparata ma non è preparata. Perfetto. Beh, però comunque pronta e attenta. No, vabbè, grazie mille, scherzo. Comunque, sì, ci sono tutta una serie di incassi tra di noi, quindi tutto quello che arriva apparentemente dal mondo esterno poi in realtà è un qualche cosa che è direttamente riconducibile a noi e magari noi ci siamo andati a cercare direttamente. Però, insomma, quel famoso datore di lavoro che mi tratta male fa sì che, non è colpa mia, perché io mi comporto bene, arrivo al lavoro puntuale, sono pronto a fare gli esercizi. Non parliamo di colpe, esatto, certo, certo. Ecco, però lui comunque mi tratta male perché è messo in questa maniera, chissà per quale ragione. Bene, questo suo atteggiamento, io seguo i transiti, tanti si suggeriscono di cambiare rotta, io trovo un altro lavoro, guarda caso, in patto, in una nuova situazione lavorativa che mi gratifica, che è magari un lavoro diverso da quello che facevo prima e trovo lì, in questo nuovo contesto, guarda caso, una nuova strada migliore della precedente, dove mi sento realizzato, magari scopro che ho altre qualità. Allora, grazie a quell'evento, diciamo così, indiretto che esola dalla mia volontà, ovvero il datore di lavoro che si comporta male nei miei confronti, io decido di cambiare strada, mi imbatto in un'altra situazione che non solo è migliore della precedente, ma fa sì che io possa riscoprire delle qualità che prima sono in me e che prima non conoscevo assolutamente, quindi mi rimetto in gioco totalmente andando a scoprire delle parti di me che prima erano assolutamente in ombra. Insomma, quindi un qualche cosa di esterno ha comunque agito a mio favore, dipende da come io lo gestisco, da come io lo ascolto, da come il mio soffermo a riflettere un pochino su determinati accadimenti che si inseriscono nella mia vita seppur la responsabilità non è direttamente riconoscibile a me. Ecco questo. Perfetto. Allora guarda, tra pochissimi secondi abbiamo anche la pubblicità a meno di un minuto. Volevo leggerti qui il Ada da Treviso che è intervenuta dicendo Tema Natale, ottimo strumento di comprensione di noi stessi, pregi, difetti, attitudini sui quali lavorare per migliorare ed essere felici. Ciao Ada, e scrive. Poi dice ancora dove opera il tuo ospite? Rispondi tu, Giuseppe? Opero direttamente a Milano, è possibile rintracciarmi secondo quelli che sono i miei canali consueti www.ilviaggiodelsole.it e la pagina Facebook. Ilviaggiodelsole.it, esatto. Poi mi tengo la prossima domanda per dopo la pubblicità. Hai la possibilità di stare ancora con noi 10-15 minuti, Giuseppe? Io ancora 15 minuti, certo. Sì, ecco, perfetto. Allora ci sentiamo fra pochissimo con Giuseppe Bullino dopo la pubblicità qui a Tiferet. Gioro sarà roccia contro il fuoco e il gelo Solo sulla cima tenderò i predoni Arriveranno in multe, solcheranno i mari Oltre queste mura troverò la gioia O forse la mia fine comunque sarà gloria E non lotterò mai per un compenso Lotto per amore, lotterò per questo Io sono un guerriero, veglio quando è notte Ti difenderò da incubi e tristezze Ti riparerò da inganni e maldicenze E ti abbraccerò per darti forza sempre Ti darò certezze contro le paure Per vedere il mondo oltre quelle alture Non temere nulla, io sarò al tuo fianco Con il mio mantello asciugherò il tuo pianto E amore mio grande, amore che mi credi Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi E resterò al tuo fianco fino a che morrai Ti difenderò da tutto, non temere mai Non temere il drago, fermerò il suo fuoco Niente può colpirti dietro questo oscuro Lotterò con forza contro tutto il male E quando cadrò da un indisperare Per te io mi rialzerò Io sono un guerriero e troverò le forze Lungo il tuo cammino sarò al tuo fianco Mentre ti darò riparo contro le tempeste E ti terrò per mano per scaldarti sempre Attraverseremo insieme questo regno E attenderò con te la fine dell'inverno Dalla notte al giorno, da accidente oriente Io sarò con te e sarò il tuo guerriero E amore mio grande, amore che mi credi Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi E resterò al tuo fianco fino a che morrai Ti difenderò da tutto, non temere mai Ci saranno luci accese di speranze E ti abbraccerò per darti forza sempre Giuro sarò roccio contro il fuoco e il gelo Veglio su di te, io sono il tuo guerriero Tiferetta Radio Gamma 5, io sono Laura Stiamo facendo una bellissima intervista Mi piace molto con Giuseppe Bulino Che spero di non aver perso Giuseppe ci sei? Non mi hai perso Benissimo, pensavo che fossi con qualche transito da qualche parte Allora Ebbene, abbiamo risposto anche a Dada Che saluto anche con un grande affetto Che sono stata felicissima perché di sapere che l'ho conosciuta in radio Ed è una persona veramente eccezionale Allora, c'è un'altra Prima di iniziare con un'altra mia domanda Che mi è venuta nel frattempo finché tu parlavi Qui il nostro radioascoltatore, il 208 finale Dice complimenti per la trasmissione A proposito di psicoterapia Viene ancora vissuta come una pratica che riguarda le persone fragili? Oh mamma mia Chiede a te di questa cosa Allora, premettiamo che Giuseppe non è un psicoterapeuta Giusto Giuseppe? Assolutamente, no, no, no Io mi occupo dell'istrologia Cerco di indagare l'animo umano Ma chiaramente la psicoterapia Insomma, essere psicoterapeuti Richiede altri percorsi di studi Poi è chiaro, insomma, l'istrologia Ha tutta una serie di compagne D'avventura, no? Rispetto ad altre discipline Che può essere un po' la psicologia Un po' altre Altre materie Insomma, che sono parte integrante Del mio percorso di studi E di chi studia astrologia Però non sono uno psicologo Non sono uno laureato in psicologia E questo ci tengo a dirlo Insomma, ecco Quindi non faccio terapia Diciamo, io do Si fornisce con l'astrologia Una consulenza Rispetto a quelli che sono dei momenti La psicoterapia invece ti Prende per mano E ti accompagna per un periodo Insomma, più o meno lungo Ecco, attraverso quello che è un percorso interiore Poi possono avere delle finalità simili Chiaramente Perché comunque ci sono dei richiami Assolutamente a quella che è la psichia umana Però, ecco E poi tra l'altro Per rispondere alla domanda La psicoterapia Non è un qualche cosa Per anime deboli O per anime fragili È un qualche cosa Per qualcuno Che ha bisogno di capire Di comprendere Un qualche cosa Che da solo Non è Non ha gli strumenti Per comprendere E non riesce ad andare a fondo Da solo Rispetto a quello che è una questione Che lo riguarda personalmente Ma anche l'astrologia Un po' fa questo Nel senso che comunque Con altre Per altre vie Ci aiuta A comprendere Quelle che sono delle cose Che autonomamente Non siamo in grado Di decodificare Ecco, quindi Non diciamo Attraverso l'astrologia Io tra le consulenze Non dico che cosa La persona deve fare Sia mai Nel modo più totale Insomma Ciascuno di noi Deve essere responsabile Delle proprie scelte Cerco solo Di accendere Delle lampadine In modo da Come dire Far vedere La propria situazione Anche da altre angolature Cercando anche di Ritornare a quelle Che sono un po' le origini Cioè a capire Da dove ha origine Quella che è Una determinata questione Un determinato problema Che la persona Avverte In un determinato momento Della propria vita E che sicuramente Si porta Dietro da chissà quanto tempo Ma che era l'indormienza Che a un certo punto Le esperienze della vita Risvegliano Ecco questo Perfetto Allora Con riferimento A questo discorso Che dicevamo appunto Questi transiti Nel tema natale Nella situazione contingente Quindi Che ci indicano Certo tipo di forze Che percorrono Il nostro percorso Scusate Il gioco della parola E quindi magari appunto Rilevano Le nostre difficoltà Ad affrontare O a non vedere Alcune tipo di dinamiche Io mi chiedo Dall'altra parte Quindi come rilevano Questo forte cambiamento Che deve essere fatto Che può essere appunto All'interno Come dicevi tu Di vari Può essere Di un top di mesi Di anni Dipende Dai vari pianeti E mi chiedo questo Può rilevare Per esempio Delle risorse Può vedere Delle risorse Che la persona ha Assolutamente Sì 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 Ma noi Quando ci troviamo Di fronte Che ha dei casi Dei casi limite Insomma Il classico detto Il bisogno A gustare ingegno Non è Un detto popolare Messo lì Tanto per essere Insieme A una massa Di Di frasi Che la tradizione Ci tramanda Effettivamente È proprio vero Cioè Quando è il momento Di massimo bisogno In un momento Dove Tutto diventa Per noi Un po' estremo Diciamo Sicuramente Quella è una fase Di passaggio difficile Perché dobbiamo cercare Di capire Cosa sta succedendo Perché soffriamo Perché siamo agitati Perché Nella nostra testa C'è Un affollamento Di pensieri Che non riusciamo A indirizzare A catalogare Quello è il momento Di passaggio Principale Poi però Voglio dire Tutto questo Nel momento In cui Come dire La difficoltà Persiste Noi possiamo Ritrovare Delle risorse Che non abbiamo Mai conosciuto Prima E quindi Diciamo così Che è la vita Proprio Che attraverso Diciamo Tutta una serie Di esperienze Ci aiuta Effettivamente A Come dire A far luce Su tutta una serie Di ingredienti Che avevamo Nella nostra dispensa Quindi all'interno Del nostro anima Nel nostro io E che adesso Possiamo Effettivamente Tirare fuori Ecco Questo sicuramente Sì Quindi C'è la possibilità Di vederli E quindi anche Di rilevarli Da parte Appunto In questo tema natale In modo abbastanza Semplice Assolutamente Ma natale Ce lo racconta In maniera Chiara Al di là Che ci sia La situazione Estrema O meno Da vivere Però diciamo Che poi Il traslitto planetario E quindi L'esperienza Di una determinata Di una determinata Io magari Da me Ce li ho A utilizzarle E a sfruttarle Le acque Il tigre Le ufrate Ecco Quello spazio Geografico Che oggi Chiamiamo Iraq È una terra Allora Particolarmente Favorevole Ai popoli Mesopotamici In quanto Il suo clima Temperato E poi Il suo cielo Tendenzialmente Limpido Hanno favorito Incentivato Molto L'osservazione Del cielo Ecco Quindi Stiamo parlando Quindi Di una disciplina E spero Che si sia Un po' Capito Questa sera Anche Nei nostri Incontri Passati Stiamo parlando Di una disciplina Che parla Il cuore Dei uomini Che indaga L'animo Umano Una disciplina Che si lega A quella Che è una Possibile Concezione Della realtà Non possiamo Ridurre L'astrologia A quello Che c'è Scritto Estremamente Riduttivo L'astrologia È molto Di più È una disciplina Che poi va A bracetto Tra l'altro Con altre Discipline Sorelle La geometria La matematica L'astronomia La psicologia La filosofia Ecco È una disciplina Seria e complessa In quanto stiamo Parlando Dell'animo Umano E dato Che l'animo Umano È qualcosa Di estremamente Complesso L'astrologia Chiaramente Non può Essere da meno È complessa Anch'essa Ecco L'astrologia Parla un linguaggio Comune a tutti I uomini Ed è ricca Di simboli Direi straordinari Che appartengono A tutti noi Sien dalla notte Dei tempi È il momento Il momento Della nascita Il momento In cui noi nasciamo È un momento Unico Ed irripetibile Così come è Irripetibile Ogni istante Che viviamo Nella nostra vita Irripetibile È il giorno Del nostro Sedicesimo Compleanno Irripetibile È il nostro Primo giorno Di lavoro Ogni cosa Ogni istante Che noi viviamo È irripetibile E ciascuno di noi È irripetibile Così come Le esperienze Che facciamo Nella nostra vita Per quanto Alcuni hanno Un denominatore Comune Sono comunque Irripetibili Ecco Momento dopo momento Lungo Quello che è Un po' Insomma Il folle percorso Della nostra vita Si sosteguono Momenti precisi E sono Tutti Accompagnati Da una particolare Conformazione Celeste Che è Rappresentativa Della sostanza Dell'esperienza Che stiamo Vivendo Quindi Il passaggio Dei pianeti Sulla nostra Teste In qualche modo Scandisce Un tempo All'interno Del quale Viviamo Quella Determinata Esperienza E di conseguenza Diciamo Che caratterizza Tutto ciò Che Insomma In maniera Assolutamente Indiscutibile Stiamo Vivendo Mediante Quell'esperienza Stessa Ecco Questo tempo Caratterizza L'esperienza Che facciamo E il cielo Cosa fa? Semplicemente Riflette La qualità Di questo tempo E ci racconta In maniera Molto profonda Esaustiva E veritiera La natura Dell'esperienza Che stiamo Portando avanti Quindi I pianeti Insomma Non influenza La nostra vita Nel loro Etano movimento Bensì Raccontano Raccontano Una storia La nostra Storia personale Insomma E questo Ecco Insomma Perché gli oroscopi Generalizzati Funzionano molto poco Oltre al fatto Questo è proprio il caso Di dirlo Laura Che vi è una massiccia Presenza Di ciarlatani Campopati Da astrologi Che ostentano Previsioni pazzesche Certo Certo Anche molti danni A livello In giro Immagino Perché anche poi Voglio dire Creano scetticismo Creano scetticismo Assolutamente Diffidenza Insomma E tra l'altro Poi ostentano Tutta una serie di cose Creano Una cosa Anche Fastidiosa E sono attacchi Continui Da parte di tutti Quelli che Non vedono l'ora Di trovare Delle incongruenze Le previsioni Le previsioni D'incongruenze Ne rivelano parecchie Proprio perché L'astrologia Venne promossa Come strumento Previsionale Occultando così Invece La sua funzione Principale Che è quella Di accompagnarci Verso La composta Prevolezza Insomma Mediante Un'accurata Introspezione Ecco Qui C'è un mondo Ricco di risposte In grado Davvero Di svelarci I misteri Piure conditi Quelli che Sono abilmente Diciamo così Custoditi Nella nostra anima Dobbiamo solo Imparare A interpretare Questo nostro Mondo interiore E studiare Questa disciplina Significa Prendere Innanzitutto Coscienza Della sua serietà In secondo luogo Dobbiamo poi Amarla davvero Perché bisogna Cercare poi Di non essere Mai negativi Né tantomeno Deterministi Perché anche Dietro ai transiti Più difficili C'è in realtà Un potenziale Che è possibile Far emergere E che è atto Proprio a In qualche modo Suggerire La strada Più conveniente Per il raggiungimento Di nuove Consapevolezze Ecco È giusto Di avere In consiglio Aiutare a fare Chiarezza Rispettando però Sempre Sempre e comunque Ecco questo Contro meno Secondo me La volontà Di ogni singolo Oltre al fatto Che come abbiamo Già sostanzialmente Detto poco fa E come diceva poi Lo stesso Tommaso D'Aquino Astra inclina Fed non necessita I pianeti Non ci forniscono Cioè ci forniscono Soltanto un'indicazione Ci danno Dei suggerimenti Ma non determinano Assolutamente Nulla Non so più In che lingua dirlo Cioè nel senso Che è un qualche cosa A cui veramente Un messaggio Questo forse In assoluto È il più importante Per me Secondo il mio punto di vista E cerco veramente Di renderlo Il più possibile Chiaro A tutti quanti Non sono i pianeti Che indicano La strada Che noi dobbiamo fare Ce la illuminano Ce la suggeriscono Ed esperienza Dopo esperienza Nel cielo Ci sono particolari Configurazioni I celesti Che si formano Che raccontano Passo passo Non siamo in grado Insomma Ci fa vedere Che ci fa vedere I temi I temi E i corsi Che lui È arrivato È arrivato il messaggio Ripeto il sito Che è Il viaggio Del sole E abbiamo appena Parlato con Giuseppe Buglino Bene Grazie Laura Grazie a te Buon proseguimento Di serata E alla prossima Grazie davvero Un abbraccio a tutti Grazie 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 E allora Torniamo in diretta Giusto perché Parliamo Parliamo di Radio Gamma 5 E parliamo di Iniziative Per sostenere La cooperativa Gamma 5 Potete effettuare Il versamento Su conto corrente Postale 25 38 64 59 Oppure tramite Bonifico Presso il credito Cooperativo Di Campodarsego E Liban Invito a cercarlo Nel sito Della radio www.radiogamma5.it La terza possibilità Di fare donazioni A questa radio È attraverso La consegna Direttamente Del contributo Agli incaricati Preposti Che ricordo Sono e sono Soltanto I membri Del consiglio Di amministrazione Che ricordo La presidente Che saluto Tiziana Galtioldo Il vice Presidente Mario Costa Il consigliere Sinigaglia Liviana E poi ancora Luca Trevisan Riducibili Marina Vitalba Che saluto E poi ancora Il consigliere Marco Nisco E Paolo Girotto Ecco loro Sono solamente Coloro Che sono Preposti A ritirare Il contributo Tutte le risorse Concorrono Alle spese Correnti Di gestione Della radio La cooperativa Gamma 5 Ringrazia Quanti concorrono In varie forme Nel dare continuità La vita Di gamma Radio gamma 5 Radio gamma 5 Organizza domenica 20 di gennaio 2019 ore 12 e 30 in sede radio il riscaldante appuntamento a tutta bagna cauda tradizionale o vegana specialità dei nostri amici not have più che un piatto un bel rito conviviale che prevede la condivisione del cibo in maniera collettiva intingeremo colata verdura di stagione. Nonché la nostra storica polenta nei foiotte i contenitori riscaldati in terracotta presentissimi i dolci delle spose ed il nostro Giorgio Pirata con la musica e tanto karaoke per info e prenotazioni questo è il numero mi raccomando affrettatevi perché c'è la possibilità poi di non avere più la possibilità di scriversi per il tutto terminato e quindi questo è il numero 347 6618 523 il tutto ad offerta libera sostegno dell'imparagonabile radio gamma 5 E poi è prevista una serata di Marino Herb presso officina calligrafica di Bruno Grippari in via De Gasperi 30 a Caerano San Marco Il previsto per il giorno 25 gennaio 2019 l'ore 20 e 30 questo il numero di cellulare per le informazioni eccolo qui il 380 5108 151 scusatemi ripeto 380 5108 115 In ogni persona c'è una bellezza unica che vuole essere riconosciuta e onorata per chi vuole davvero aprire quelle porte che la tengono prigioniera le tre chiavi sono arrivate venerdì 25 gennaio alle 20 e 45 qui in sede radio ci sarà il dottor Maurizio Castellini a presentare il suo libro le tre chiavi per liberare la bellezza chiusa in te. Per saperne di più visita www.mauriziocastellini.it Venerdì 1 febbraio ore 21 in sede radio gamma 5 via Antoniana 66 a Campodarsico Imbrogli truffe e usura bancaria con Alfredo Belluco, Raffaella Zanellato, Gianfranco Muzio Tutte queste persone che ho elencato sono della confer contribuenti e il moderatore sarà il nostro conduttore Paolo Girotto L'ingresso è libero con Tesla 5 euro che ricordo costa 5 euro per tutto il 2019 Tesla appunto Associazione Franco Cararo 76 e questo appunto sarà venerdì 1 febbraio alle ore 21 qui in radio Gas Associazione Franco Cararo 76, prenotazioni aperte a tutti di Bioarance della Sicilia, mele biodinamiche, crauti non pastorizzati, succo d'uva, succo d'arancia, più limone, più mela, più zenzero, limoni di pestum Consegna in sede radio sabato 2 febbraio dalle ore 14 alle ore 18 per info e prenotazioni 347 66 18 523 E poi ricordo ancora tutti coloro che dovessero ancora decidere che si prendano questa idea di essere assolutamente liberi, liberi liberissimi per quello che è il nostro, il compleanno di Radio Gamma 5 previsto appunto come sentiamo anche nella pubblicità che si sente qui in radio è previsto per il giorno 24 febbraio quindi troviamoci tutti da Gambaro per festeggiare questa incredibile e dimenticabile emittente Radio Gamma 5 e ringrazio per questa puntata che ormai volge alla termine Grazie a tutti coloro che hanno partecipato attraverso messaggi e anche tutti coloro che hanno ascoltato in silenzio Grazie davvero Tiferet si conclude qui Adesso passo il microfono alla regia ad Andrea che vedo già presente dall'altra parte con degli ospiti Per cui grazie davvero Noi ci vediamo fra 15 giorni e vi auguro una buonissima serata e chiudo con Everybody Hurts la nostra canzone chiesta da Gigia Grazie, grazie davvero Buona serata e buon proseguimento a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti